Presidente, oggi è una giornata importante, arrivano le prime casette nella provincia di Macerata. Sì, oggi è la giornata delle casette di Macerata, Macerata è la provincia più colpita come estensione di danni all'interno del sisma e quindi la funzione delle casette è una funzione estremamente importante. Il fatto che si è messo in moto, mai in maniera definitiva, quasi tutti i cantieri per la realizzazione delle casette sono operativi e ci permetteranno settimana dopo settimana di continuare con questa attività di consegna. Quello che si consegna in questo caso, chiamare le casette, è quasi riduttivo perché sono vere e proprie case, hanno un livello di abitabilità molto elevato e permettono di ricostituire le comunità che sono l'asse portante e l'obiettivo della ricostruzione. La ricostruzione si fa per le persone, non si fa per le cose. Questo ritorno speriamo che poi possa aver seguito il più rapidamente possibile anche la fase di ricostruzione, potessi rifare la casa. Ho parlato anche con un po' di cittadini che oggi verranno alla casetta, li ho sollecitati a far muovere i propri tecnici per presentare, laddove ovviamente è possibile, il recupero della propria abitazione senza preoccupazioni perché l'avanzamento del progetto è il punto di partenza per fare i lavori e ritornare. Non si deve avere timori di quello che manca, le risorse ci sono, tutte le ricostruzioni sono pagate, i tecnici hanno ormai tutti i regolamenti disponibili per poter presentare i progetti e quindi è bene che vediamo questa casa come un momento di passaggio per la ricostruzione vera e propria.